Io innanzitutto vorrei ringraziare la comunità, i cittadini, le attività produttive, le attività commerciali, perché fino ad oggi si è avuto un comportamento abbastanza importante che ci ha consentito di avere una situazione abbastanza sotto controllo. Ovviamente come si sa è un male difficile da combattere, non c'è il virus e quindi bisogna evitare di costringere i sindaci a fare provvedimenti di chiusura contro assembramenti e attività varie. Bisogna quindi rispettare rigorosamente le norme, le leggi, i regolamenti, i provvedimenti che consistono sostanzialmente in primo luogo ad avere sempre la mascherina, soprattutto lo rivolto ai giovani, e mantenere le distanze, l'igienizzazione, le cose che ovviamente sappiamo è che non è uno scherzo, bisogna rispettare, perché poi chiudere le attività produttive vuol dire dare un colpo mortale all'economia, perché quando uno non ha lavoro rischia o muore di Covid o muore di mancanza di lavoro, di occupazione, di reddito e di opportunità. Siccome la prima cosa per quel che ci riguarda e che mi riguarda è la tutela della salute, e in primo luogo l'obiettivo del binomio lavoro-salute, perché noi puntiamo come sempre anche in questa fase drammatica alla piena occupazione, quindi bisogna cercare di dare una mano, come hanno fatto molti cittadini di questa città, al rispetto rigoroso ferreo delle regole, perché quello consente di salvare la salute e di salvare anche i posti di lavoro, che sono un binomio incindibile salute e lavoro per il benessere della comunità. Prima di tutto viene la salute, tutti quelli che operano devono sapere chi si lavora nei termini previsti dalle norme, la tutela assoluta della salute e la tutela del lavoro, che è un diritto importante, per fortuna qui sono molte le attività che hanno idea di potenziare la loro fabbrica, hanno già ritirato le concessioni per creare nuovi posti di lavoro, perché avere la piena occupazione per noi è molto importante. Gli eventi si fanno se si possono fare, qualsiasi attività si può fare, ma si può fare non facendo assembramenti, con gruppi molto ristretti e avendo quella attenzione perché prima di tutto bisogna salvare la vita.